Degrado ed abbandono ad un livello intollerabile per la sicurezza dei cittadini. È quanto denunciato nei giorni scorsi da Andrea Matteotti, del Movimento 5 Stelle Rivano. Il consigliere, tramite i social, ha puntato il dito contro lo stato attuale del parco dell'ex colonia Miralago, che un tempo era una bellissima area verde funzionale a turisti e residenti. Ecco come si valorizza il parco Miralago, scrive il consigliere. Bottole aperte e incustodite nel prato, con il rischio che grandi e bambini possano caderci dentro. Cumuli di materiali abbandonati dopo i lavori di molti mesi fa. Degrado e vandalismi ovunque. L'edificio principale con le porte aperte e teatro di giochi pericolosi. Un bellissimo biglietto da visita alle porte della città.